Nell'alternarsi degli opposti. Ho letto che verso la metà del Cinquecento, con il gusto per la sovrabbondanza e la complicazione, avanza il manierismo. La decorazione diventa sfarso e ostentazione e spesso puro eccesso. Perché? Perché nell'alternarsi degli opposti è in obbedienza alla legge d'evoluzione, il Rinascimento, che si afferma a Firenze agli inizi del Cinquecento con il primato della vita attiva su quella contemplativa, cede il passo alla mente per poi decadere, sempre in obbedienza alla legge d'evoluzione, alla fine del Cinquecento, nel manierismo, che è la crisi del Rinascimento. Grazie a tutti.